Il Presidente ha incontrato oggi i sindaci di tre comuni del cratere sismico, quali sono stati i temi trattati? Sono i temi legati appunto alla ricostruzione inevitabilmente, il ritardo con cui ormai da troppi anni si affronta questa vicenda e le prospettive però di uno sblocco sostanziale delle operazioni attraverso le ordinanze e le leggi che sono state approvate di recente il negoziato che abbiamo avviato e per certi versi concluso con il Commissario Farabollini che oggi stesso risentito anche a seguito delle sollecitazioni dei sindaci e del direttore dell'ufficio perché attendiamo a giorni dal Commissario la soluzione di alcuni problemi che soprattutto pesano in questi comuni che sono quelli della sovrapposizione dei due crateri di normative che confliggono tra di loro e che nessuno ha saputo sciogliere in questi anni abbiamo definito con i nostri uffici sia quelli del Sisma 2009 che quelli del 2016 delle norme interpretative che possono sbloccare anzi che se venissero accolte dal Commissario sbloccheranno in maniera decisiva la ricostruzione di molti aggregati e comunque permetteranno appunto ai comuni e agli uffici di poter andare avanti con l'autorizzazione delle procedure ho sentito Farabollini, è stato disponibile, confido che voglia accogliere queste nostre richieste e suggerimenti e che nei prossimi giorni potremo dare buone notizie a questi territori Grazie